Sicuramente al secondo tempo è scesa un'altra Italia in campo, infatti abbiamo recuperato il risultato e siamo riuscite ad andare avanti. Sicuramente adesso per affrontare la Bulgaria domenica dovremo però purtroppo ripartire dal primo tempo, dagli errori che ci sono stati, dall'approccio un po' leggero alla partita. Sarà un'altra Italia dall'inizio, spero in questi giorni riusciremo a lavorare e a correggere questi errori che ci sono stati nel primo tempo per appunto portare a casa il risultato e la qualificazione. Partita del ritorno si riparte dal più 7 e anche qui riprendo le parole di Tedesco che ha detto non ci dobbiamo assolutamente montare la testa. Sì, appunto ogni partita ha la sua storia, sicuramente la Bulgaria scenderà in campo pensando al primo tempo dove si è portata in vantaggio, si riparte dal 0 a 0 come ogni partita e scenderemo concentrate appunto per portare a casa il risultato.